Eccoci ora in compagnia invece del grande direttore della nostra banda musicale Città di Ferentino, Alessandro Celardi. Dico importante direttore perché veramente ormai già dal 2009 si trova alla guida di questa che è una grande realtà del nostro paese. Festeggiamo infatti 35 anni di attività della banda musicale, ovviamente il direttore non è dall'inizio, ovviamente come potete vedere è molto giovane. Bene Alessandro, volevo chiederti da direttore d'orchestra, ci puoi dire come è nata l'idea appunto del grande maestro Donino Toce, di questa opera appunto Ferentinum? È il terzo anniversario che mi trovo ad organizzare artisticamente e già dal 25esimo abbiamo deciso di dedicare una parte della nostra attività alla committenza, cioè chiedere a compositori di scrivere per noi. Quindi iniziamo nel 2006 per il 25esimo anniversario appunto con il maestro Antonio D'Antò che scrisse per noi una sinfonia. Lo seguimmo poi nel 2011 con un giovane compositore Luca Pelosi il quale scrisse un brano sempre a noi dedicato e adesso ci apprestavamo appunto a questo 35esimo anniversario che era una tappa un po' fondamentale, un punto di arrivo e di ripartenza. Abbiamo deciso quindi che la persona che più potesse rappresentare le nostre esigenze era appunto il maestro Antonio Poce che è di Ferentino ma non per questo, ma dobbiamo insomma esserne ancora più orgogliosi e quindi abbiamo voluto chiedere a lui di comporre secondo la sua dialettica, secondo il suo linguaggio un'opera a noi dedicata. È nata così Ferentinum, quest'opera intermediale che potrete apprezzare tra voi. Ne siamo certi, ne siamo certi. Ti lascio subito alla tua serata.